Il mio corso è forte per grattare a chi non sente, non si percibisce Francesca è un esempio peculiare del rapporto tra lotta e creatività, tra violenza politica e riscatto sociale, tra indifferenza e solidarietà. Il filo portante della nostra storia è una piccola valigia che viaggia per il mondo piena di oggetti poveri ma dal grande valore simbolico. Sono gli oggetti con cui Francesca cerca di esorcizzare il mostro che la perseguita da tutta una vita, la violenza politica. Fin dall'esilio, bambina, negli anni di Pinochet, passando per la Germania del Muro, l'arte di Francesca ha incontrato tematiche come la tolleranza e l'umanità negata, fino agli attuali rivolgimenti in Cile, fino alla resa dei conti con il mostro. Il progetto, da un'idea di Cristian Poli e Massimiliano Bartolini, è scritto da Cristian Poli e diretto da Daniele Enriquez, a cui passo volentieri la parola. Hola, soy Daniele Enriquez, el director de la película. Estoy encantado de participar en este proyecto, es un tremendo desafío. che mi identifica molto. Io anche sono figo del exilio, chileno, e sempre mi ha conmovido la forma che tiene Francesca di processare le esperienze traumatelle e convertirli in bellezza, in conoscimento, in cariño, in esperanza, in una esperanza activa. e anche sento che è fondamentale la ricostruzione della memoria del nostro paese, del Chile e del mondo, in cui oggi dà la sensazione di che nulla di quello che ci ha affettuato si è risultato del tutto. Tecnica mista, di riprese originali, archivio storico e archivio delle recenti manifestazioni di svoltesi a Santiago del Chile a partire dall'ottobre 2019, il film avrà anche un'importante parte di animazione, attraverso la quale Francesca ci svelerà la sua visione del mondo. Pensiamo di chiudere lo sviluppo per la fine del 2020 e di realizzare la versione cinematografica del film per la fine del 2022, affinché possa poi essere trasmesso internazionalmente in occasione del cinquantesimo anniversario del golpe di Pinochet nel 2023. Dai vari paesi dove siamo tutti confinati, stiamo lavorando alla prima stesura del trattamento e alla finalizzazione di un teaser per poter coinvolgere i nuovi partner. Ci auguriamo di poter procedere secondo i nostri piani, nonostante gli eventi che stiamo vivendo e auguriamo a tutti una necessaria e felice dignità.